Fratelli nel Signore oggi volevo parlarvi appunto del saluto. Il saluto, anche il saluto, è importante. Tutto quello che noi credenti facciamo è importante. È importante e lo dobbiamo saper spiegare anche biblicamente. Cioè non è che se uno vi facesse la domanda, vi fa la domanda, ma tu perché saluti con la pace? E noi dobbiamo saper rispondere anche a quello. Quindi oggi affronteremo dal punto di vista biblico anche questo aspetto del saluto. Il saluto innanzitutto è importante. Il saluto è un gesto, sono delle parole espressive che delle persone diciamo pronunciano oppure un'azione che le persone, che in questo caso a noi ci interessa tra credenti, che fanno i credenti, delle parole che si dicono o dei gesti che si fanno quando ci si incontra con altre persone. Oppure quando ci si lascia con altre persone, quando le si salutano perché vanno via. Questo è il saluto. Il saluto che può essere anche, anzi, è una benedizione. Cioè forse questo che sanno in pochi, il saluto è anche una benedizione che noi credenti diamo all'altra, mandiamo, chiediamo a Dio verso gli altri. Il saluto è importante. Il saluto tra credenti è molto importante perché quando due credenti si incontrano si salutano in una certa maniera. Cioè quando dei soldati salutano, facciamo un esempio, quando dei soldati si salutano, salutano in una certa maniera. Non con il saluto al cappello, alla visiera, con il gesto della mano. Oppure quando si saluta una persona importante, lì si saluta in una certa maniera con riverenza. Ecco, praticamente il saluto è la prima cosa che mette in evidenza il rapporto che c'è tra quelle persone che si sono incontrate. Il saluto può essere distaccato, quindi vuol dire che tra loro non c'è familiarità, non c'è un rapporto profondo, per dire che si sono incontrati per qualche affare o per altri motivi. C'è una distanza, quindi dal saluto noi possiamo capire la distanza, il rapporto che c'è fra quelle persone. Ecco perché vi dico che è il saluto che noi diamo, no? Noi salutiamo con la pace del Signore. Allora vedremo anche che cosa significa, che cosa è. Noi salutiamo con la pace del Signore un fratello che noi incontriamo. È importante questo. È importante perché dal saluto che noi diamo al fratello mostriamo il rapporto che c'è tra di noi, capite? Mostra il rapporto. Voglio dire, ora se noi salutiamo con la pace del Signore anche un incredulo, non succede niente. Però tra fratelli, diciamo, mettiamola così, è obbligatorio. Se noi salutiamo invece un inconvertito, cioè, vogliamo che una certa benedizione vada anche su di lui. Però, diciamo, è importante tra fratelli salutarsi con la pace del Signore. Così come insegnano le scritture ed oggi andiamo a vedere. Noi salutiamo quindi con la pace del Signore. Che cos'è? E' una grande benedizione, fratelli. Ecco perché salutiamo con la pace. E questo lo andiamo a leggere nel Libro dei Numeri. Nel Libro dei Numeri, al capitolo 6, al versetto 22, leggiamo queste parole. L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo, parla ad Aronne e ai suoi figlioli, e di loro, voi benedirete così i figlioli di Israele. Dirette loro. Ci sono quindi poi diverse benedizioni. Poi c'è quella che a noi ci interessa, al versetto 26, che dice L'Eterno volga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Vedete? Quindi i sacerdoti dovevano benedire il popolo di Israele in questa maniera, con queste benedizioni, che queste sarebbero proprio da leggere attentamente, e quando si benedice i fratelli, anzi le leggiamo, dai, le leggiamo perché così. Queste erano le benedizioni che i sacerdoti dovevano pronunciare a favore del popolo di Israele. Quindi sono frasi molto importanti. Tra queste frasi c'è appunto il saluto che noi pronunciamo verso i fratelli. Quindi non sono parole che diciamo così tanto per dirle. Questo saluto che noi diamo ai fratelli con la pace del Signore, pace a te, pace a voi, lo diciamo appunto con il desiderio che Dio benedica quella persona in questa maniera, come abbiamo letto. Cioè che l'Eterno volga verso te il suo volto e ti dia la pace. Quindi questo è il significato del saluto che noi pronunciamo quando salutiamo un fratello. Quando salutiamo un fratello con la pace vogliamo dire che la pace del Signore sia su di te. Non deve avere altri significati. Cioè non deve avere il significato che, per dire, tra noi c'è la guerra e quindi non ci salutiamo con la pace. E' chiaro che ci si trova in difficoltà se due fratelli hanno discusso. E' chiaro che dopo quando si incontrano c'è una difficoltà. Oppure sono di denominazioni diverse perché taluni, no? Ad esempio quelli delle Adi, se non sei delle Adi, se non sei d'accordo con loro, ti dicono ciao, ciao. Cioè appunto con una volontà, vedete, quindi con una volontà di non riconoscerti come fratello. Quindi c'è proprio una volontà manifestata di non mandarti appositamente la benedizione del Dio vivente e vero verso di te. Capite? Quindi fate attenzione perché quando salutiamo qualcuno, quel saluto ha un significato ben preciso. Se gli altri ci vogliono offendere e non ci vogliono salutare con la pace, non vogliono mandarci la benedizione di Dio della pace su di noi, badate bene, cioè gli altri lo fanno, ma noi non dobbiamo essere tra questi. Noi desideriamo che Dio mandi la sua pace, ma anche contro i nostri nemici, anche contro quelli che ci odiano. Noi vogliamo che Dio benedica tutti, che li convinca, li faccia ravedere, li faccia tornare alla verità. Tra cui abbiamo la nostra richiesta a Dio e che Dio benedica e che Dio dia la pace e faccia scendere la sua pace nel cuore anche dei nostri nemici. Quindi se noi incontriamo qualcuno e quelli ci dicono ciao, ma vabbè, loro a noi non vogliono mandarci la benedizione di Dio, ma noi non dobbiamo essere come loro. Noi invece gli dobbiamo dire pace a te, che il Signore ti benedica. Capite? Questo vuole il Signore che noi facciamo, perché se noi sappiamo che quelli sono fratelli in Cristo, anche se sono ribelli, anche se sono quello che sono, anche se non siamo d'accordo su diverse cose, se noi riconosciamo che sono dei fratelli in Cristo e non li salutiamo con la pace del Signore, vuol dire che noi stiamo manifestando il fatto che non vogliamo che su di loro scenda la benedizione di Dio. E questo non è cosa buona davanti al Signore. Quindi, se voi salutate quelli che ritenete fratelli sempre con la pace del Signore, naturalmente sto parlando con un saluto sincero, sto parlando di un saluto fatto in maniera sincera, non soltanto per salutare, per dire una parola, per uscirse da una certa situazione. Deve essere fatto con il cuore. E per farlo con il cuore dobbiamo anche sapere cos'è. E oggi, appunto, stiamo parlando di cosa è questo saluto con la pace. Noi mandiamo così una benedizione, noi desideriamo che la pace del Signore scenda su queste persone. Come abbiamo visto, di benedizioni in numeri 6 dal versetto 22 al 27, ce ne sono diversi. Ad esempio c'è che l'Eterno ti benedica e ti guardi. Vedete quante volte diciamo che Dio ti benedica. È una frase che va bene. È una frase che tra i fratelli ci dobbiamo pronunciare l'un l'altro. Perché il nostro desiderio è che Dio ti mandi del bene a te e a tutta la tua famiglia e soprattutto il popolo dell'iddio vivente. Capite? Quindi fa parte di quelle benedizioni, appunto, scritte, vedete? Che facciamo bene a pronunciare. Ancora dice l'Eterno faccia risplendere il suo volto su te e ti sia propizio. Eh sì, perché la simbologia è che se Dio è propizio a qualcuno, cioè ti mostra il suo volto. Ma se Dio ti gira le spalle, se Dio gira le spalle a qualcuno, vuol dire che lo sta maledicendo, vuol dire che non è gradito, non è propizio a Dio. Quindi la benedizione, appunto, è che Dio faccia risplendere il suo volto sul suo popolo e gli sia propizio, cioè che non gli sia contrario. Capite? Anche quella è una benedizione, vedete? E poi c'è quella che abbiamo già letto, che è quella che oggi ci interessa in modo particolare. L'Eterno, al versetto 26, 6, 26 di numeri, l'Eterno volga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Vedete? Che Dio ci guardi in maniera benigna. Cioè il nostro desiderio, quando noi salutiamo con la pace un fratello, praticamente in una parola, cioè brevemente, noi gli stiamo dicendo che Dio ti benedica, che l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te, cioè ti dia tutte le benedizioni di cui tu hai bisogno e ti riempie il cuore della sua pace. Non come la dà il mondo la pace, ma come il Dio dà la pace in profondità nel cuore. E questo, quando noi salutiamo, diciamo pace, fratello, diciamo queste cose, capite? E quindi lo dobbiamo sapere, quello che noi stiamo dicendo. Quindi, quando non lo diciamo, perché quel fratello ci ha fatto arrabbiare, quel fratello è contro di noi, quel fratello non è dei nostri, sappiate che state facendo, state escludendo quel fratello, state evitando di mandare tutta questa benedizione di Dio su quel fratello. Quindi lo state facendo in maniera cosciente. E questo, davanti a Dio, non va bene. Poi, come vedremo in un altro passaggio, è chiaro che noi mandiamo la pace del Signore, ma se qui non c'è nessuno figliolo di pace, se non c'è nessuno che Dio reputa che quella pace debba riposare nel suo cuore, quella pace tornerà a noi. Poi lo vediamo dove è scritto nel Vangelo di Luca, quando Dio manda i settanta, capite? Quindi è importante, io voglio con questo farvi capire cos'è, oggi voglio farvi capire cos'è il saluto con la pace e che dovete sempre salutare con la pace. E quando non vi salutano con la pace dei fratelli, voi così comprendete a quale cosa contraria davanti a Dio vanno incontro. Quindi quello che è l'errore che compiono coloro che evitano di salutarsi con la pace. Ci sono anche quelli che quando si incontrano, cioè ci sono i fratelli, vi sarà sicuramente capitato, a me mi è capitato, in comunità, pace fratello, lo dicono a voce alta e che lo sentono tutti, no? Pace fratello! Poi la stessa persona lo incontri nel supermercato davanti agli increduli e non ti salutano, cioè vanno lì, non sanno cosa fare, arrossiscono, tu gli dici pace fratello! Magari con una voce normale come lo fai anche in comunità, cioè è normale. Pace a te fratello! E quelle, ciao, pace, non sanno come uscirsene, si vergognano di salutare un fratello con la pace del Signore nei supermercati, nei luoghi pubblici dove li vedono anche i non credenti. A me mi capitava, sia in questi luoghi pubblici, ma anche tra colleghi di lavoro, io salutavo normalmente, voglio dire, tutti sapevano quello che ero. Non è che un saluto in più, un saluto in meno con la pace del Signore mi aumentava o diminuiva le considerazioni che avevano i colleghi di lavoro nei miei confronti. Cioè, non cambiava nulla, no, io vedevo un fratello, un collega di lavoro, no, pace, pace, fratello! E quelli arrossivano, non sapevano come uscirne, sembrava di dovesse scoppiare, infatti mi evitano, mi evitavano, adesso li vedo sempre di meno, mi evitavano, mi evitavano i fratelli e in una maniera ai fratelli, i colleghi, no? Sembra quasi che volevano tenere nascosta la loro identità di cristiano. Ma se noi siamo cristiani non dobbiamo né vergognarci, né nasconderci davanti a nessuno. Questa è la nostra vita. E se ci odiano, o ci disprezzano, o ci insultano, ci prendono in giro, e infatti mi prendevano in giro alcuni, però, però è così, cioè, che devi fare? Questo è quello che Dio ci ha assegnato di fare. Quindi, vedete, il saluto con la pace, il saluto che noi dobbiamo dare al fratello, individua, fa vedere agli altri il rapporto che c'è fra quelle persone. Faccio un esempio. Ma se un figlio, o una madre, non vede il figlio, o la figlia, per tanto tempo, no? Quando si incontrano, ma cosa fa? Allarga le braccia, si corrono incontro, si abbracciano addirittura fortemente, si baciano. Ma, cioè, questo che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere il rapporto stretto di familiarità che c'è tra quelle persone, no? Capite? Oppure un fidanzato, una fidanzata, marito e moglie che si devono distaccare per un certo motivo, per un tempo, poi si rincontrano. Allora, quando si incontrano, c'è una festa, una felicità, si stringono. Ma è normale, ma perché quel saluto, quell'incontro, rappresenta, fa vedere a tutti quel rapporto di, di, il rapporto di parentela, il rapporto di amigizia, il rapporto che c'è fra quelle persone. Capite? Ecco, quindi noi facciamo vedere con il saluto, salutando con la pace del Signore e i fratelli, facciamo, oltre che esserci, una benedizione in se stessa di questa frase, di questo saluto, c'è anche una manifestazione di rapporto che c'è, che c'è con queste altre persone. Ora, noi ci salutiamo con la pace del Signore, ci tendiamo anche la mano, ci stringiamo la mano, la mano di associazione, no? ci si dà una mano di associazione, di comunione, va bene? Perché tra fratelli si fa anche questo e poi ci si dà anche un bacio. Oggi affronteremo anche la questione del bacio, non è che me lo sono dimenticato, cioè noi facciamo anche questo quando ci incontriamo, ci salutiamo con la pace del Signore, ci stringiamo la mano e poi ci diamo anche un bacio d'amore, un bacio santo, non mi sono dimenticato, ne parleremo, parleremo anche di questo. Quindi, cominciando appunto dal fatto che noi ci salutiamo con la pace del Signore. Ad esempio, i giudei, ne prendo uno ad esempio, anticamente i giudei, andiamo al libro dei giudici, dove c'è praticamente un levita che si trova dentro una città di Ghibea, si trova nella piazza e di notte incontra un vecchio, un vecchio che era una persona, una brava persona. Ora, in quella città, in quel racconto, se leggete tutto il capitolo 19 di Giudici, vedrete che quella città era molto malvagia, va bene, gli abitanti di quella città. Quelle vita si trovò con sua moglie là e insomma non hanno avuto una bella esperienza, però tra, in mezzo a tutta quella gente malvagia, in mezzo a tutta quella gente malvagia incontrò un vecchio, un vecchio che era una persona diciamo di buon cuore e questo vecchio quando incontrò quell'uomo gli disse, questo lo leggiamo al versetto 20, il vecchio gli disse la pace sia teco, vedete, io mi incarico di ogni tuo bisogno ma non devi passare la notte sulla piazza. era in viaggio in Levita stava tornando da una città ad un'altra e si è trovato diciamo di notte nella città di Ghibea la città beniamminita e in quella città di notte incontrò questo vecchio che lo ospitò insomma e quando lo incontrò prima lo interrogò Vide chi era e dopo gli disse vedete la pace sia con te la pace sia teco vuol dire la pace sia con te la pace come abbiamo visto come abbiamo visto in numeri c'è una benedizione in questo saluto c'era il desiderio di questo vecchio che la pace di Dio la pace dell'Eterno e Dio fosse su questo Levita ma gli ebrei salutano infatti con loro dicono shalom nella loro lingua in ebraico però il significato è la pace e si salutano anche loro si salutavano credo che si salutino anche anche adesso tra di loro si salutino si salutino con la pace per quanto riguarda questo saluto della pace della pace vediamo che Gesù ne parla bene quando Gesù come vi ho già accennato quando Gesù andiamo nel Vangelo di Luca quando Gesù manda i 70 ad evangelizzare quando li manda ad evangelizzare spiega loro spiega loro anche dà loro delle istruzioni tra le istruzioni che Gesù dà loro c'è anche quello lì che riguarda il saluto quindi andiamo a leggere quelle parti appunto che riguardano il saluto le istruzioni quando Gesù manda i 70 e lo troviamo al capitolo 10 del Vangelo di Luca Luca 10 Luca 10 leggiamo quindi dal versetto 1 or dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare e diceva loro bene è la messe grande ma gli operai sono pochi pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe andate ecco io vi mando come agnelli mezzelluppi non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate alcuno per via in qualunque casa sarete entrati dite prima pace a questa casa e se vi equivi alcun figliolo di pace e la vostra pace riposerà su lui se no ella tornerà a voi vedete tra le istruzioni quindi che Gesù diede ai 70 c'era anche quella di salutare di entrare nella casa e di dire pace sia a questa casa nel senso a questa famiglia non tanto la casa non intendeva una casa come i muri ma bensì alle persone alle persone che abitavano quella casa quindi la pace sia su questa famiglia sugli abitanti di questa casa la pace sia su di loro questo era l'ordine che Dio diede ai 70 quando li mandò diede loro quella missione di andare a evangelizzare a cacciare i demoni a guarire gli infermi tra le istruzioni che Gesù diede loro c'era anche questa cioè di salutare con la pace vedete e cosa succedeva Gesù lo dice se c'è qui alcun figliolo di pace la vostra pace riposerà su lui vedete quindi una volta mandata questa benedizione perché badate bene è un grande saluto questo voglio mostrarvelo appunto questo saluto ve lo voglio cercare di farvelo vedere secondo la realtà dei fatti cioè secondo la sua potenzialità e la grande benedizione che c'è in esso è questo che sto cercando di farvi comprendere affinché quando salutiate voi sappiate bene che cosa sia questo saluto quindi qui una volta salutate vedete quella casa cioè le persone che sono in quella casa se lì c'è qualche figliolo di pace c'è qualche persona a cui Dio ha deciso di benedire di mettere la sua pace nel loro cuore di far risplendere il suo volto su di loro ecco quindi che questa pace riposerà su queste persone e quindi non bisogna sottovalutare il saluto vedete perché qualcosa succede fratelli e sorelle quando si saluta con la pace del Signore con tutto il cuore naturalmente con il cuore non soltanto così tanto cioè magari li vogliamo male no se uno saluta che vuole nel suo cuore mandargli una maledizione e gli dice pace a te è chiaro che se è un'ipocrita se è un'ipocrita non funziona niente ma uno con tutto il cuore saluta saluta con la pace del Signore e qualcosa succede lì se ci sono persone che Dio ritiene degne ritiene degne di mandare su di loro la pace in funzione del fatto che li abbiamo salutati abbiamo richiesto a Dio che mandi la sua pace la sua benedizione su di loro questa avviene questa avviene infatti qui lo dice con la condizione naturalmente se vi equivi alcun figliolo di pace però se non ci sono delle persone che Dio ritiene degne perché noi possiamo non saperlo se quelle persone sono degne di ricevere la pace del Signore oppure no ma Dio lo sa se sono degne riceveranno questa benedizione se non sono degne non riceveranno nulla infatti c'è scritto che se no ella tornerà a voi quindi quella pace quella benedizione comunque tornerà addosso a noi stessi quindi comunque sia un bene l'abbiamo l'abbiamo comunque fatto nel salutare con la pace del Signore capiti queste sono le istruzioni che Gesù dava ai 70 per andare ad annunziare l'Evangelo quindi dobbiamo saperle queste cose per capire bene che cosa diciamo noi quando salutiamo con la pace del Signore ora vediamo andiamo avanti nel Vangelo di Luca dopo che Gesù è risuscitato si mostrò ai suoi discepoli dopo la risurrezione erano chiusi in una stanza erano per paura dei giudei erano chiusi in una stanza e Gesù apparve in mezzo a loro al capitolo 24 di Luca leggiamo dal versetto 36 ormentressi parlavano di queste cose Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse pace a voi ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito Gesù apparve improvvisamente perché Gesù era morto era risuscitato dai morti e queste persone erano riunite e parlavano delle cose che erano accadute Gesù apparve improvvisamente in mezzo a loro tanto che si spaventarono pure e come li salutò come li salutò i suoi discepoli pace a voi vedete pace a voi quindi il maestro li ha incontrati dopo essere morto e risuscitato e li saluta con la pace con la pace quindi anche Gesù salutava con la pace vedete quindi ecco perché noi salutiamo con la pace perché Gesù salutava con la pace i giudei salutavano con la pace la pace è indicata come una benedizione di Dio e poi vediamo adesso altri passaggi in cui anche gli apostoli salutavano con la pace del Signore quindi è per questo che anche noi seguendo le orme del nostro Signore Gesù Cristo e quanto è indicato nelle scritture e seguendo anche i saluti che facevano che diciamo utilizzavano che facevano gli apostoli anche noi simili similmente a loro salutiamo con la pace del Signore ora vediamo in Romani vediamo l'Apostolo Paolo Romani in Romani perché noi dobbiamo andare alle epistole alle epistole e vedere come salutava ad esempio l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo salutava a capitolo 1 dobbiamo andare qui al versetto 7 per vedere il saluto che Paolo dopo una premessa scrive poi i saluti ai santi che sono in Roma quindi al versetto 7 dice a quanti sono in Roma ma amati da Dio chiamati ad essere santi grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo vedete la parola pace c'è anche qui qui insieme alla parola grazia e questa benedizione Paolo che mandava nel suo saluto ai santi di Roma vedete dovevano provenire la fonte di questa benedizione era Dio nostro Padre e Signore Gesù Cristo vedete che la grazia e la pace dovevano essere sui santi di Roma proveniente e questa grazia e la pace proveniente da Dio Padre e da Cristo Gesù quindi c'era una vera e propria benedizione nel salutare in quella maniera ora abbiamo visto quindi in tutte le epistole vediamo che Paolo saluta in quella maniera noi ne abbiamo citato ne abbiamo citato una adesso andiamo a vedere che anche Pietro andiamo a vedere Pietro Pietro come salutava quindi l'Apostolo Paolo salutava con la pace ora vediamo l'Apostolo Pietro l'Apostolo Pietro dobbiamo andare al capitolo 1 della prima epistola prima epistola leggiamo Pietro Apostolo di Gesù Cristo agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponto della Galazia della Cappadocia dell'Asia e della Bitinia eletti secondo la prescenza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo grazia e pace vi siano moltiplicate vedete qui il desiderio la richiesta la benedizione che Pietro mandava su quelle persone a cui aveva scritto l'epistola era la grazia che la pace dovevano essere moltiplicate su di loro la grazia e la pace proveniente da Dio Padre e da Cristo Gesù naturalmente quindi questa grande questa benedizione doveva il desiderio la richiesta dell'Apostolo Pietro era che dovevano moltiplicarsi nei cuori dei Santi a cui aveva indirizzato l'epistola anche qui qui anche alla fine alla fine della stessa epistola per dirvi che non solo all'inizio dell'epistola ma anche alla fine dell'epistola si salutava quindi non solo all'incontro ma anche quando ci si lascia ci si deve salutare con la pace quindi andiamo all'ultimo versetto capitolo 5 di Prima Pietro versetto 14 c'è scritto nell'ultima parte del versetto pace a voi tutti che siete in Cristo vedete quindi a tutti quelli che erano in Cristo Pietro mandava la sua benedizione il suo saluto che era una benedizione pace a voi tutti riguardo di questa benedizione adesso mi viene in mente un saluto un saluto tipico del mio paese della mia regione della Sardegna che praticamente aveva un grande significato e io da sempre quel saluto mi è sempre piaciuto moltissimo perché c'era una benedizione in quel saluto era un saluto semplice che in dialetto fa così asibi con saluti cioè che tradotto vuol dire che ci possiamo rivedere avendo la salute intendendo la salute del corpo è chiaro però c'era in quel saluto quando ci si lasciava che ci possiamo rivedere però avendo la salute del corpo e c'era una grande benedizione io mi ricordo che quando sentivo questo questo tipo di saluto lo usavano lo usavano in modo particolare gli anziani quelli di una certa età non i giovani ma gli anziani ebbene a me mi piaceva perché perché io capivo avevo capito che in quel saluto c'era una grande benedizione un desiderio ecco questo è il senso del saluto ha una grande importanza capite anche noi credenti quando ci incontriamo ci lasciamo che Dio ti benedica ti guardi ti guidi in ogni cosa pace a te che il Signore ti benedica questo è il nostro desiderio noi mandiamo questa benedizione al fratello e alla sorella o a quelli che che stiamo salutando quindi è importante fratelli è importante il saluto come tutto è importante quello che c'è scritto nella parola di Dio tutto è importante quello che noi credenti facciamo e dobbiamo fare è tutto importante non c'è niente da prendere da sottovalutare perché tutto ha un significato e bisogna conoscere ogni cosa finché sappiamo come comportarci e perché stiamo facendo una tale cosa ora avendo visto il saluto con la pace ora vediamo vediamo che le scritture ci esortano non solo a salutarci con la pace va bene ma a salutarci anche con un bacio perché così è scritto nella parola ora ritorniamo all'epistola dei romani e vediamo all'ultimo capitolo l'ultimo capitolo capitolo 16 di romani al versetto 16 Paolo Paolo dice queste questa scrive ai romani questa esortazione alla fine dell'epistola e dice salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio quindi Paolo esorta i santi a salutarsi con un santo bacio attenzione un bacio sappiamo cos'è però deve essere santo cioè il bacio deve essere puro deve essere sincero e deve essere un bacio puro non deve essere dato dopo vediamo appunto altri baci che vengono dati in maniera sbagliata con scopi diciamo impuri con scopi malvagi il bacio deve essere santo deve essere un bacio d'amore come poi vedremo che dice Pietro deve essere un bacio santo ancora vediamo adesso diversi versetti no? anche in Prima Corinzi Prima Corinzi sempre alla fine dell'epistola di Prima Corinzi leggiamo le stesse parole capitolo 16 versetto 20 c'è scritto anche qui salutatevi quindi Paolo ha scritto ai Romani ha detto salutatevi con un santo bacio poi Paolo scrive l'epistola ai Corinzi e ai Corinzi dice pure salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio vedete ecco fratelli perché noi ci salutiamo con la pace abbiamo visto perché scritto e poi ci salutiamo anche con un bacio perché c'è l'esortazione il comando di salutarci in quella maniera capite però attenzione il bacio deve essere santo anche anche vabbè ai Corinzi c'è anche la seconda epistola ai Corinzi anche ai tessalonicesi scrive queste parole Paolo per dirvi che era una cosa che Paolo insegnava ed esortava tutti i santi a salutarsi a salutarsi con un santo bacio anche ai tessalonicesi andiamo a leggere la prima epistola dei tessalonicesi all'ultimo capitolo al versetto 26 vedete 526 di prima tessalonicesi c'è scritto salutate tutti i fratelli con un santo bacio vedete ha esortato i santi ha esortato dei santi di tessalonica a salutarsi con un santo bacio e invece Pietro adesso andiamo a vedere andiamo a leggere andiamo a leggere come invece ha esortato di salutarsi Pietro prima Pietro capitolo 5 al versetto 14 Pietro ha scritto queste parole salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore vedete come ha esortato qui mentre Paolo ha detto salutatevi con un santo bacio Pietro dice invece con un bacio d'amore perché con un santo bacio comprendiamo che il bacio che viene dato deve essere puro non deve avere nessuna contaminazione non deve avere nessuna immondizia in se stesso invece qui Pietro mentre esorta i santi a salutarsi con un bacio d'amore vuole dire che deve essere un bacio che deve contenere del sentimento quindi si saluta un fratello perché lo si ama con un bacio d'amore quindi salutandosi con un bacio si sta manifestando amore nei confronti del fratello capite? del fratello o tra sorelle quindi il bacio deve essere pieno d'amore e il bacio deve essere santo quindi non deve essere fatto in maniera impura o con scoppi nascosti appunto per questo motivo appunto per questo motivo si ritiene conveniente io ritengo conveniente che il bacio il bacio sia conveniente che ci si saluti con il bacio soltanto tra per dire uomini con uomini e sorelle con le sorelle a meno che l'età o una certa l'età non sia diciamo così avanzata che possiamo salutare anche le sorelle quando è chiaro che con la sorella un fratello e una sorella si salutano anche con un bacio se è sicuro che anche agli occhi degli altri non ci sia non sia possibile che ci sia magari neanche l'apparenza di un'impurità o di un qualcosa di nascosto si può si può baciare anche la sorella però quando il fratello o la sorella sono giovani quando sono sposati e sono lo stesso giovani per evitare gelosie per evitare tanti problemi che possono sorgere è preferibile è conveniente è conveniente appunto perché il bacio deve essere pieno d'amore e santo è conveniente che le sorelle si salutano con il bacio tra di loro e i fratelli si salutano con il bacio tra di loro capite quindi per convenienza attenzione non per un obbligo che è scritto espressamente nella Bibbia che un fratello non può salutare una sorella con un bacio però è conveniente e io lo ritengo necessario lo ritengo che sia necessario per evitare tanti problemi tanto se si ama la sorella come sorella si saluta con la pace gli si dà la mano è sufficiente senza creare scandali senza che succeda niente senza che susseguano delle conseguenze che possono essere prese a male mi viene in mente appunto vi devo dire questo perché cosa succedeva in certe comunità mi hanno raccontato in una comunità cosa succedeva succedeva che c'erano delle sorelle avvenenti che avevano giovani e avvenenti allora invece c'erano delle sorelle meno avvenenti mettiamola così cosa succedeva succedeva che alla fine del culto quando andavano a salutarsi gli uni gli altri a questa sorella aveva una fila interminabile no? e lei era in difficoltà cioè si capiva che quella sorella andavano a salutarla perché era una una sorella che aveva una certa bellezza capite? mentre quelle che avevano una bellezza inferiore non erano salutate come era salutata quella sorella e quindi per evitare questo perché purtroppo è così fratelli infatti la scrittura vedete dice parla di un bacio santo un bacio d'amore ora per evitare per evitare questo per fare in modo che non ci siano dubbi o apparenze di male è preferibile è preferibile che ci si saluti tra gli uomini con un bacio d'amore e un bacio santo e con le sorelle è lo stesso quindi sorella con sorella e uomo con uomo è preferibile in questa in questa maniera però non si esclude che se è una sorella di una certa età o non ci sono assolutamente problemi di nessun genere si possa anche salutare o qualche volta per qualche anche eccezione non ci sono problemi però badate bene dobbiamo sempre guardare all'apparenza guardare anche alla gelosia della moglie o del marito perché ci possono sorgere dei problemi allora per evitare tutte queste problematiche noi ci atteniamo obbediamo al comandamento e usiamo la sapienza e l'intelligenza che Dio ci ha dato siccome nelle scritture c'è scritto che il bacio deve essere un bacio d'amore un bacio un bacio santo mettiamo in atto no stabiliamo una certa un certo comportamento che eviti eventuali discussioni o sollevazioni di problematiche varie quindi è preferibile in questa maniera perché voi sapete no che tra uomo e donna c'è differenza non siamo uguali dico fisicamente quindi non ci si stringe va bene non ci si stringe tra uomo e donna non ci si abbraccia a meno che non è tua moglie marito e moglie certo si possono abbracciare è normale però tra fratello e sorella non ci si abbraccia si tiene le distanze non si mettono le mani da nessuna parte né sulle spalle né sul braccio non si toccano i fratelli e le sorelle non si devono toccare per nessuna ragione capite si dà la mano per salutare il bacio il bacio è preferibile è preferibile in una certa situazione è preferibile evitarlo tra fratello e sorella perché appunto dobbiamo sempre dare una buona testimonianza a tutti a quelli di dentro e a quelli di fuori quindi non dobbiamo dare adito a nessuno di di pensare qualcosa di di sbagliato dobbiamo sempre avere che la purità la santità l'amore deve essere sempre presente ma sempre con sapienza e intelligenza senza senza creare un'apparenza che potrebbe essere presa a mano però non toglie che qualche volta ci possa essere un'occasione un fratello saluta una sorella non è che succede niente adesso non è che stiamo lì con il fucile puntato appena uno sbaglia viene espulso per queste cose no assolutamente però è chiaro che dopo sicuramente se questa cosa continua e si allarga poi bisognerà intervenire perché qualcosa succederà sicuramente e per evitare questo che per evitare di dover intervenire disciplinare qualcuno che ci si diciamo si previene la cosa ed è meglio mettere in atto il saluto come è scritto nella parola in questa maniera in maniera conveniente soprattutto il bacio santo il bacio d'amore ma il bacio è importante o no? domandiamoci anche questo ma adesso lì il bacio è scritto è comandato ma è importante e questo ci fa capire Gesù ci dice appunto quanto è importante il bacio ad esempio se andiamo a leggere torniamo al Vangelo di Luca al capitolo 7 di Luca quando Gesù va a mangiare a casa di un di un fariseo di un fariseo che è di nome Simone va a mangiare a casa sua va bene? e lì c'era una peccatrice che voi vi ricordate bene questo passaggio c'era una peccatrice capitolo 7 dal versetto 36 dal versetto 36 io adesso a brevio poi andiamo a leggere il passo che ci interessa vi racconto il fatto c'era questa donna peccatrice che era una tavola e Gesù gli ha lavato i piedi con le sue lacrime l'ha diciamo profumato gli ha ha rotto un vasetto di profumo l'ha unto d'olio l'ha profumato Gesù gli ha lavato i piedi con le sue lacrime e gli ha asciugati con i capelli ma l'ha riempito di baci ecco quello che interessa a noi per adesso nel contesto in cui stiamo parlando è i baci l'ha riempito di baci lo baciava continuamente i piedi come scritto al versetto 38 e stando ai piedi di lui di dietro piangendo cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i capelli del suo capo e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio vedete baciava e ribaciava i piedi Gesù a Gesù questa donna a Gesù ora colui che l'ospite lì che ha ospitato Gesù Simone il fariseo cominciò a prenderla male questa cosa perché una peccatrice toccava Gesù cioè non si doveva far toccare secondo lui ora tra le cose che Gesù gli disse a questo fariseo guardate cosa c'è scritto qui al versetto versetto 44 quindi 744 di Luca e voltosi alla donna disse a Simone vedi questa donna io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua ai piedi ma ella mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli tu non mi hai dato alcun bacio ma ella da che sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi tu non mi hai unto il capo d'olio ma ella mi ha unto i piedi di profumo vedete il versetto che a noi ci interessava in modo particolare è diciamo l'ha ripreso cioè Gesù ha ripreso Simone il fariseo lo ha ripreso per diversi motivi ma tra questi motivi c'era anche il bacio vedete cioè tu non mi hai dato alcun bacio cioè Gesù è entrato in quella casa avrà sicuramente salutato ma Simone non si è precipitato per dargli un bacio questo significa che Gesù conferma che baciarsi anche tra fratelli e tra sorelle diciamo in una certa maniera come abbiamo spiegato prima in maniera conveniente il bacio è necessario il bacio è una cosa buona capite quindi non solo ci dobbiamo salutare con la pace e stringendoci anche la mano va bene ma il bacio deve esserci deve esserci anche il bacio vedete perché Gesù ha ripreso Simone il fariseo perché era entrato in casa e non lo aveva baciato allora per evitare per evitare che un fratello ci riprenda perché non lo abbiamo baciato noi quando un fratello oppure una sorella tra sorelle quando ci si incontra per salutarci è chiaro che deve essere d'accordo anche l'altra parte perché voi incontrerete fratelli che non vi vogliono baciare attenzione non è che li dobbiamo costringere capite cioè il bacio non deve essere una costrizione però noi salutiamo con la pace e con un bacio un bacio d'amore un bacio santo quindi dobbiamo saperlo questo poi se c'è qualcuno che non gradisce dobbiamo capirlo capite bisogna capirlo se l'altro non gradisce non è che dobbiamo forzare basta non si fa e basta però se un fratello o una sorella per dire vogliono un bacio perché loro si lanciano vogliono baciare e voi noi fratelli e sorelle non possiamo ritirarci indietro ritirarci indietro almeno che non si capisce che sia un bacio santo cioè che non sia un bacio impuro o un bacio che non sia d'amore ma contenga in sé delle impurità o una malvagità e qui vi racconto questo mio fatto che è accaduto personalmente mi sono trovato in una comunità delle Adi dove davanti a me c'era una persona un uomo apparentemente un uomo quest'uomo praticamente si alza e testimonia che prima era un transessuale che il signore lo aveva salvato e lo aveva liberato va bene ha raccontato questo poi cosa è successo è successo era davanti a me nel seduto quindi lo vedevo bene questo qui ogni cinque minuti ogni minuto si girava a guardarmi e mi chiedeva ma che ore sono ma quando finisce tutto il culto così tal punto che non mi ha fatto seguire bene perché c'avevo questo qui era davanti a me si girava e mi parlava e mi chiedeva quando finiva il culto e guardava sempre l'orologio e parlava con quello che c'aveva a fianco insomma cosa ho capito io lì ho capito che quello lì aveva qualcosa che non mi convinceva io non sono rimasto assolutamente convinto di questa persona della sua conversione di quello che ha detto però era chiaro che aveva ancora degli atteggiamenti si vedeva si vedeva che aveva degli atteggiamenti femminili degli atteggiamenti che non erano virili non erano adatti a un uomo io personalmente quando è finito il culto voi sapete ci si saluta era una comunità delle Adi normalmente ci si saluta tra fratelli e le sorelle con le sorelle giustamente come deve avvenire io personalmente a lui non mi sono sentito di salutarlo ecco non mi sono sentito di salutarlo non mi sono sentito di dargli un bacio non mi sono sentito assolutamente di fare niente con quella con quella persona perché perché avvertivo dentro di me che non sarebbe stata una cosa pura non sarebbe stata una cosa un qualcosa d'amore un amore diciamo senza impurità un amore come piace al Signore insomma mi sono tenuto lontano questo per farvi capire che anche tra uomo e uomo o tra donne e donna potrebbe potrebbe esserci qualche problematica poi sta a noi comprendere io in quel fatto lì in quell'occasione in quella precisa occasione mi sono sentito di evitare di evitare perché non mi sentivo proprio non me la sono sentita e ho fatto bene perché non mi ha convinto mi ha dato fastidio tutto il culto dopo aver testimoniato quello che ha testimoniato diciamo ma è stato non era convincente ecco non è stato convincente anzi sembrava che quel locale di culto non fosse proprio il suo posto era proprio agitato si muoveva nella sedia insomma non era il suo posto là e questo mi ha messo quei dubbi che dopo quando c'è stato alla fine che lui si precipitava salutare i fratelli ma non mi ha convinto io mi sono tenuto ben ben lontano questo per farvi capire che c'è bisogna quello che è scritto è comandato certo quello bisogna sempre praticarlo però vediamo bene sempre sempre che ci sia la dovuta convenienza capite deve essere conveniente quello che si fa ad esempio un bacio ora vediamo sempre rimanendo nel Vangelo di Luca avendo visto che per Gesù il bacio comunque era importante infatti ha ripreso quel fariseo ora vediamo che il bacio può avere anche un senso malvagio capite infatti Gesù ricordatevi è stato tradito è stato tradito con un bacio infatti leggiamo la sera che la notte che Gesù fu tradito al Vangelo di Luca al versetto 47 leggiamo queste parole mentre parlava ancora ecco una turba ecco lui che si chiamava Giuda uno dei dodici la precedeva e si accostò a Gesù per baciarlo ma Gesù gli disse Giuda tradici tu il figliolo dell'uomo con un bacio vedete quindi con un bacio si può anche tradire cioè cosa voglio dirvi cosa voglio dimostrarvi con questo è vero che il bacio deve essere un bacio d'amore quando ci si saluta però non è che si chiude lì cioè io ti ho dato un bacio un bacio e quindi ti amo con certezza cioè il bacio non basta poi alla fine per dimostrare l'amore che noi abbiamo verso il fratello o la sorella cioè deve esserci perché è comandato ma non è sufficiente da solo devono seguire i fatti devono seguire i fatti perché vi ricordate quel passo in proverbi che sta scritto frequenti sono fedeli sono le ferite di chi ama e frequenti sono i baci di chi odia vedete cioè uno che odia per dissimulare l'odio per far capire che per far capire che non vi odia può abbondare di baci così come di complimenti mi riempie di complimenti fratello che sei sorella sei bella perché le donne sono più sensibili a certe parole quindi chi ti deve sedurre chi ti deve adulare usa le parole che tu vuoi sentire le sorelle cosa vogliono sentirsi che sono belle che hanno una bella pettinatura che il taglio di cappelli è riuscito bene che i vestiti gli stanno bene insomma tutte queste cose sorella qua e là ma in verità hanno in cuore sette abominazioni perché perché ci sono delle persone che ti riempiono dei complimenti che ti riempiono anche di baci no ah fratello sorella ti riempiono di baci però ti odiano dentro il loro cuore ti odiano abbiamo visto infatti che Giuda ha tradito il maestro con un bacio quindi il bacio quindi dobbiamo sapere anche questo cioè è comandato ma dobbiamo sapere anche che non è che guardiamo solo ai baci noi per sapere se un fratello o una sorella ci ama eh ad esempio no ci sono marito e moglie che il marito magari o il marito di solito tradisce la moglie la riempie di regali no la tradisce continuamente poi invece per farla che le donne sono sensibili a determinate cose gli porta sempre dei fiori sempre dei fiori magari un marito che non tradisce mai la moglie non gli porta mai dei regali no sembra quasi che non gli voglia bene ma non è vero noi dobbiamo guardare all'effettivo al comportamento di una persona non a quanti regali o baci o parole ti voglio bene ti amo viene detto non è a parole che si deve amare ma infatti è verità ci dobbiamo amare gli uni gli altri infatti è verità senza no come Gesù dice anche per altre cose senza tralasciare le altre cose quindi ci dobbiamo amare gli uni gli altri a fatti e in verità però senza tralasciare il fatto che dobbiamo salutarci con la pace e dobbiamo salutarci anche con un bacio d'amore un bacio santo perché anche questo è comandato quindi quindi guardare praticare le cose le cose più importanti ma senza tralasciare senza alla fine tralasciare le altre le altre cose e questo era per oggi il messaggio che volevo darvi affinché voi comprendiate comprendeste il saluto quanta importanza ha il saluto come praticarlo e perché viene praticato in questa in questa maniera questo era il messaggio che ho voluto darvi questa sera a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén alle